Una gara difficile quella di martedì sera che i ragazzi dell'Albino Leffe hanno portato a casa con autorità e tanta corsa. Comunque di fronte a una squadra forte, ben organizzata, però siamo stati bravi questa sera, soprattutto nel primo tempo abbiamo spesso un buon gioco, ha fatto un gran gol lui, ha fatto un gran gol Ruopolo, che ci ha permesso di andare in vantaggio e siamo riusciti a amministrarlo anche nel secondo tempo. L'importante è il gol di Cellini, il secondo in due partite consecutive, che ha sbloccato la situazione. Peccato solo per un errore che poteva regalare la doppietta personale al bomber toscano. Sicuramente c'è un pensiero a Mario su quell'occasione che per me, in questo momento specialmente, sarebbe importante sempre buttarla dentro. Però abbiamo fatto un'ottima prestazione nel primo tempo, nel secondo tempo siamo un po' calati, ma l'importante era non subire il gol e l'obiettivo era quello e ce l'abbiamo fatto. Adesso in casa arriverà il Bari capolista e subito dopo ci sarà una diretta concorrente per i playoffi, la e Brescia, due gari difficili che i ragazzi di Madonna dovranno affrontare con lo stesso spirito con il quale hanno affrontato il Cittadella. Non abbiamo niente da perdere, noi abbiamo un obiettivo davanti a noi, per raggiungerlo dobbiamo pensare solo domenica per domenica, senza avere rimpianti di niente, provare sempre a vincere, sappiamo che andiamo a affrontare due squadre importantissime, però lo spirito deve essere quello. Grazie a tutti!